In questo caso era già avvenuto a Villarperosa, è stato Cristiano Ronaldo a segnare il primo gol su assist di Douglas Costa. Allegri ha messo in campo due formazioni diverse, nel primo tempo con i due centrocampisti e l'attacco fantasia con quadrato di bala Douglas Costa e Ronaldo. Nel secondo tempo tre a centrocampo, Bentancourt trequartista alle spalle di Mangiuchic e Bernardeschi. In gol, oltre a Ronaldo, anche gli altri nuovi, Bonucci e Cancelo, oltre a Di Bala su assist di Ronaldo proprio. Pjanic, Mangiuchic, Bernardeschi e Matutti è finita 8-0 contro la Juve Under-23 di Zironelli che giocherà, ricordiamo, il campionato.